Giovane promessa del karate campano, come ti trovi nel Team Fiore? È stato uno dei gruppi sportivi che mi sono piaciuti di più, perché fra le nostre famiglie e anche fra di noi si è starato una sorta di rapporto positivo, pieno di positività. Infatti quando facciamo diverse trasferte, anche ad esempio fra poco andremo all'estero a un mag in Croazia a fare la Coppa del Mondo, c'è molta socializzazione fra i genitori e fra anche noi ragazzi. Questo sport ho deciso di farlo perché prima è stata una sorta di riscatto per me stesso, perché prima non facevo nessuno sport e mi sentivo soppresso perché mi prendevano in giro. Grazie a tutti.